Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Contoterzisti Non lo dicevo da due mesi ormai e finalmente benvenuti in un nuovo episodio di Contoterzisti Con... eh sì ragazzi vi ho detto che a settembre partivano le novità E sì, ecco una grossa novità, il resto la vedrete, sarà una cosa molto interessante Ma prima vi devo dire di andare in alto a destra a vedere l'ultimo video su The Italian Farmer E secondo vi dico che stasera ore 21.30 ci vediamo in live sulla Farmer di Giuliano Riniziamo le live proprio da oggi Oltretutto mi sono ripreso, sto bene, settimana scorsa è stata veramente... non vi dico, non lo racconto perché è disastrosa E però adesso sto bene, quindi tutto a posto E oltretutto ragazzi ci tengo a scusarmi e a dirvi che mi dispiace Che purtroppo stanno uscendo un video settimana e neanche nei giorni regolari Quindi di solito era martedì e venerdì e invece anche oggi esce il mercoledì o il giovedì Datemi ancora qualche giorno e tutto ritorna nella norma se non ancora meglio di prima Quindi ragazzi portate pazienza Oggi abbandoniamo Geiselberg Insomma, abbandoniamo, adesso vi racconterò cosa ho in mente di fare Noi possiamo partire e andare verso la nuova destinazione Guida Ema ragazzi, aiuto, va piano Ema Il migliore guidatore Eh Dio mamma Dietro c'è il Beppi con su il class e il 9.42 Oddio, oddio Comunque ragazzi, nuovo trasblocco Ennesimo A che trasblocco siamo? Al terzo Per la serie di conto terzisti, giusto? No Praticamente sì, no Il secondo 40 va bene come lo dite Sì, sì, tieni 40 Abbiamo fatto Felsbrum No, sì, Felsbrum Zweinzernhof Geiselberg E adesso andiamo in un altro paese Che già la mappa non ha un nome di un paese Quindi mi dà stra fastidio Però è molto molto carina Però ragazzi, appunto Non è un abbandono totale da Geiselberg Questa è la novità Perché noi qua abbiamo l'azienda del Pellet Abbiamo diverse cose ben stabili e impiantate Sicuramente ci sarà una grossa rivoluzione del parco micchine Quindi venderemo tanti mezzi Ne acquisteremo di altri Dovremmo fare, diciamo, dei soldi Per ampliare la nostra attività nel settore degli autotrasporti Quindi questa è una novità E vedrete come voglio strutturare la cosa E quindi diciamo che non è una separazione netta da Geiselberg Ma, insomma, nel giro di una decina di episodi Avremo la nostra autonomia nel nuovo paese Però, insomma, nel giro di questi dieci episodi Dovremmo ancora utilizzare un pochino Nella nostra azienda E nei nostri terreni A Geiselberg E quindi questa è un po' la novità Adesso ci trasferiamo Farò un taglio Ci vediamo di là nel nuovo paese Ma la grossa novità È appunto che utilizzeremo ancora per qualche attività Geiselberg Oh ragazzi Eccoci con un Emma in contromano E un Giuseppe veramente disastroso Che poverino Cioè è disastroso Che con quel gudufer lì Deve prendere di quelle manovre Di quelle curve Che stanno in cielo e in terra Invece Emma con una macchina così piccola Prende le curve Che se avesse un tir da 18 metri Però Questa è un'altra storia ragazzi In ogni caso Per i fan Ormai siamo già a 8400 persone E per questo vi ringrazio Perché stiamo crescendo tanto Nonostante la non frequenza di video Come al solito Insomma nonostante la scarsità di video Quindi hai visto Beppi Quando facciamo i video non si cresce Quando non facciamo i video si cresce Quindi non facciamo più video Dai dai sto scherzando Comunque ragazzi Per i fan di più vecchia data Quindi i primi 4.000 iscritti Eh sì Cioè gli starà scendendo la lacrimuccia Ragazzi Prima serie del canale con Gasp Sopra alla The Valley The Old Farm Si chiama The Valley Aspetta The Valley Old Farm Senza il secondo D Giusto? No no The Valley The Old Farm The Valley The Old Farm si chiama Bello bello questo segnale Tra il tuo gioia Ma fai pure retromarsi Ormai la baccata l'hai fatta Vabbè 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 Io guarda Voglio andare all'esame di patente Di sto ragazzo Quando la prende E non guardo neanche la curva Che sta facendo Beppi Ma io Però Beppi Comunque questa qua È stata privata È stata privata Cos'è che volevi dire te? Volevo fermare le macchine Eh sì ho visto Guarda complimenti guarda L'hai fermato Un treno di macchine In ogni caso Per i fan di più vecchia data Ragazzi Insomma Gli starà scendendo la cremuccia Sta scendendo anche a me Manderò il link di questo video A gasp Perché siamo tornati Siamo tornati su questa Famosa mappa Da cui tutto È partito Io scendo E dobbiamo scaricare Anche qualche mezzo Allora L'unica cosa Che mi dà fastidio Di questa mappa È che abbiamo sempre detto Andiamo a Zweinstein Andiamo a Geiselberg E sta mappa Non ha Cioè Il paese Non ha un nome Ema Se stai lì Prendi Una sberla Col cancello Che guarda Volevi Va un po' indietro Va un po' indietro Bene Aspetta Devo fare l'apertura Stai rovinando Tutti i momenti Romantici Di questo episodio Comunque ragazzi Portate pazienza A chi non piacciono Questi episodi Solo parlati Ma oggi parliamo E basta Perché ho anche bisogno Di voi Quindi rimanete lì Un secondo Apriamo il cancello Metti la musichetta Quella di Romantici Sì Cosa ti metto Eh Cosa preferisci Mario Biong La via in rosa Ti metto Va bene Esatto Sì Il copyright Me lo paghi te Va bene 20 anni Comunque Detto questo ragazzi Appunto Mappa da cui tutto è partito Non è qualcosa Che mi dà fastidio E che non abbia un nome Questo paese Cavolo Quindi nei commenti Decidete Come chiamiamo Sto paese Dategli sempre qualcosa Di un po' tedesco Austriaco Perché non siamo andati Tanto distanti A Geisselberg Penso anche te Giuseppe Ema Decidete un nome Da dare a sto paese Non si può chiamare The Valley The Old Farm Sempre Ci impieghiamo mezz'ora A dirlo Cioè fa tempo Ad asciugarsi L'umidità Della granella Nel carro Fa tempo A fermentare Il trinciato Nella trincia Quindi Ragazzi Ecco Qua ragazzi Entrate in gioco Voi Se avete voglia Di farlo Nei commenti Scrivete Quali mezzi Vendereste E quali mezzi Terrestre Bene o male Avete visti Nei vari episodi Non hanno subito Grossi cambiamenti Di conseguenza Di conseguenza Se avete seguito I vari episodi Sapete cosa c'è In farma E potete decidere Cosa tenere E cosa non tenere Io prenderò Un po' I vari spunti Nei commenti Datemi idee Ditemi cosa tenere Cosa vendere E così via E seguendo Anche una sorta Di logica E poi Prendo un po' Di commenti Vedo cosa fare Faccio i miei aggiustamenti E via Andare Ecco Per esempio Una cosa logica Sarebbe Abbiamo sto 7R qua Che abbiamo portato Qua Abbiamo fatto il traslutto Ormai a su Quante 40 ore Circa Sarei 30 e 40 Ecco Sono tante Sono tante Per farmi L'abbiamo usato bene Se non anche di più E quindi Questa è una macchina A mio parere Da vendere Da sostituire Con un altro mezzo nuovo Anche per vedere Qualcosa di diverso Perché ragazzi Ok Che nella realtà Non si fa proprio così Però anche i terzisti Fanno così Un po' Nella realtà Quindi vendono Comprano Vendono In base alle ore Ecco Però ragazzi La serie Con due terzisti E' bello anche Acquistare O provare Medzi E così via Quindi non possiamo Sempre tenere le stesse robe Abbiamo fatto tante Evoluzioni Quindi Insomma Oltretutto Beppi Mi hanno detto Se non sbaglio Che il concessionario Di John Deere Qua E' molto forte Giusto Siamo molto scoperti Sul concessionario Fend Cosa che invece A Geisselberg Era Pieno No? Pieno Ti ricordi che siamo arrivati A Geisberg Ci hanno sempre Subito piazzato Il 942 In prova Che è qua con noi E invece qua Mi sa che ci piazzeranno Qualcos'altro In prova Cosa dici? Non voglio meglio Di dire No Hai capito cosa arriva Dai non fare il finto tonto Sì ho capito Perfetto Forse dobbiamo andarselo a prendere Quindi dobbiamo tenere Il Goldhofer Noleggiato Comunque l'idea Appunto ragazzi E' questa Noi cominciamo Fatica A prenderci i nostri clienti Qua Nella De Valle De Old Farm Abbiamo un'attività Un'azienda Una partita IVA Che fa pellet A Geisselberg E di conseguenza Produciamo qua I pellet O comunque la paglia Nella De Valle De Old Farm Poi facciamo Tutto il viaggio Con i vari tir Con l'azienda di autotrasporti Per arrivare a Geisselberg E rifornire Il nostro impianto Di produzione pellet E insomma Voglio fare un po' così Perché mi dispiace Dire Ah butto via tutto Butto via l'azienda di pellet Così via Basta Iniziamo Cioè non si può trasferire Un'azienda di pellet Non sarebbe assolutamente realistico Di conseguenza Voi due non cadete giù Che avete tolto le paratie Ma è pericoloso lì E quindi Ragazzi Proprio questo Voglio tenere ancora Ve l'ho detto Una decina di episodi Questo trasferimento Questi scambi Questo gioco Diciamo un po' avanzato E Niente Basta Tutto qui Tutto qui Sei contento Ho pagato una gamba Aia Sei contento Beppi Di aver cambiato Aria Sì sì Sono contento Ema Boia Boia Però due o tre galline Potremmo prendere Perché Sì sì È vero che Camminano nel piazzale Qua giusto Sì così Che prima la frittata La mattina Che passavano in mezzo Alle gambe di Gaspo È vero Mamma mia Ragazzi vi ricordate Voi i primissimi iscritti Ma saranno piangendo Saranno commossi Comunque dai ragazzi A parte gli scherzi Grazie per avermi seguito Anche in questo episodio Abbiamo fatto il trasloco Trasferiremo tutto Venderemo tutto Il vendibile Terremo tutto Il tenibile Acquisteremo tutto L'acquistabile E così via Il 9.42 L'ho già messo in officina Perché è un po' rotto Ah cosa Aspetta un attimo Aspetta un attimo Ah ok Vedo un collettore Bruciato Ok Perché il motore Salda un pochino Vedo una trazione anteriore Distrutta Qualche cavo elettrico Partito Sembra quasi il mio 926 Fend Favorit Vario Eccesso Mamma mia No comunque Mamma mia L'ho tenuta alla fine In questa parte Perché Vabbè Non abbiamo neanche Un carro ponte Per passare sopra La cabina Questo 9.42 Pensa a te Come siamo Dobbiamo rimboccarci Le maniche No ci sono le botole Sotto Ma se devo smontare la cabina Mi che lo faccio sotto Questo non era calcolato Dai dai Vabbè Vabbè ragazzi Episodio un po' di chiacchierata Ditemi Scrivete i vostri consigli Ditemi se la mappa vi piace Eccetera Eccetera Ragazzi portate pazienza Ancora un po' Stasera ci vediamo in live Ma portate pazienza Ancora un po' Che ripartiamo Con la solita routine Del canale O addirittura Migliorata E avanzata Vi ho promesso novità A settembre Partiamo da oggi Con le varie novità E niente Ragazzi Ci vediamo Nel prossimo episodio Prima Ovviamente Vi faccio salutare da Ema Ciao a tutti Vi faccio salutare da Giuseppe Ciao a tutti Vi mando Anch'io Un caro saluto E noi ci vediamo Nel prossimo episodio E e Oì Ehi Ehi Mi hai già rotto una gamba Ema Stai calmo No scusa